gentili telespettatori ben ritrovati a questo nuovo numero di dolomiti turismo che quest'oggi va parecchio in alto perché andiamo sul passo Pordoi allora saluto e ringrazio Gian Paolo Soratroi direttore della Pordoi S.P.A. Ciao Gian Paolo grazie per essere qui. Buongiorno e grazie per questo graditissimo invito. Allora siamo alle porta dell'estate dal punto di vista del calendario dal punto di vista del meteo ancora no ma ci incuriosi sul Pordoi c'è ancora neve sul passo Pordoi? Abbiamo una situazione molto particolare perché oltre i 2.000-2.200 metri soprattutto sui versanti a nord c'è ancora tantissima neve e sta per iniziare diciamo la stagione estiva perché ormai è alle porte e abbiamo ancora i percorsi per le biciclette i sentieri ancora carichi di neve è un bel impatto. E certo perché manca poco aprite gli impianti il 15 giugno? Esattamente noi apriremo gli impianti, gran parte degli impianti o perlomeno quelli che fanno parte del circuito del Sella Ronda il 15 giugno. Rappresenta un problema la presenza di neve oppure si conta che da quei 15 giorni possa andare via? Ma adesso ha fatto tanta pioggia e in questi giorni anche in alto e questa ha favorito un po' lo scioglimento della neve però in alto i sentieri sono ancora pieni di neve. Speriamo che cambia anche il tempo perché abbiamo bisogno di una primavera vera come non vediamo da parecchio tempo. E certo allora Pordoi S.P.A. facciamo un po' il quadro della situazione. Passo Pordoi logicamente fra Araba e la Val di Fassa. I vostri impianti quanti impianti risalita e piste da sci chiaramente in inverno per lo sci e l'estate per la bicicletta? Sì noi siamo una piccola media diciamo società di impianti a fune e gestiamo quattro impianti sul versante bellunese del Passo Pordoi quindi il versante di Araba e siamo un anello fondamentale nella catena diciamo che costituisce il Sella Ronda questo famoso circuito che è frequentato e ricercato da tutti gli sciatori di tutto il mondo. Adesso abbiamo veramente sciatori da tutto il mondo che vengono proprio per sciare in queste zone per fare questo circuito che si può fare sia in senso orario che in senso anti-orario. Ecco una curiosità sono più gli sciatori che prediligono il senso orario o anti-orario? È possibile andare a quantificarlo? Lo so che per i passaggi magari è. Certo esistono le statistiche è difficile dire qual è più bello perché ci sono alcune piste in un senso alcune piste nell'altra nell'altro si sta più sugli impianti nell'altro si possono fare le varianti quindi dipende un po' da quello che uno vuole ricercare. Statisticamente il giro in senso orario è più frequentato. Quest'anno c'è stata un'inversione di tendenza ma perché il tempo ha un po' disturbato e il vento ha anche disturbato alcune giornate proprio nella zona del Pordoi, del Corrodella e quindi la gente si è dirottata sull'alto giro però più o meno siamo la pari. Gianpaolo siete in una posizione strategica appunto del giro del Sella Ronda. Genericamente in tutta la provincia nelle principali stazioni è stato un inverno col segno positivo. Da voi per capire anche quanto influisce il Sella Ronda nel totale dei passaggi è stato un segno speriamo positivo e se sì in quanto? Sicuramente è stata una stagione positiva anche se alla fine noi abbiamo fatto registrare un piccolo calo nei passaggi ma veramente minimo dovuto al tempo atmosferico che non ha aiutato verso la fine di febbraio e tutto il mese di marzo soprattutto i weekend non sono stati proprio ottimali e poi i giorni coincidenti con il periodo di Pasqua e il giorno di Pasqua e di Pasquetta in particolare sono stati un po' deludenti dal punto di vista del tempo atmosferico e questo ha inciso un po' ma stiamo parlando veramente di poche migliaia rispetto alla stagione precedente che è stata una stagione da record. In linea generale nel Dolomiti e Subeschi si è registrato un trend positivo. Ecco parlavi di Pasqua, si parla sempre più di destagionalizzazione, allungare le stagioni, col mare quindi quei periodi di vuoto che sono fra le stagioni con delle aperture. Ne vale la pena tenere aperto gli impianti anche dopo Pasqua, Gianpaolo? Per voi economicamente e per l'economia della valle soprattutto? Ecco questa è una scommensa che stiamo inseguendo un po' da alcuni anni, in particolare con Funivia Rabba che spinge la stagione fino al 20-21 di aprile. Noi siamo un po' più cauti diciamo, l'abbiamo sempre allungata in questi anni di una settimana, dipende molto dal tempo atmosferico. È chiaro che la gente non è presente in massa come durante l'inverno, però rimangono diciamo gli affezionati ecco. E' una scommessa che viene vinta se il tempo è bello, perché le piste sono meravigliose. La stagione è migliore per sciare, è paradossale ma è proprio aprile. Ecco l'economia della valle, quindi parliamo di hotel ma anche ristoranti, negozi, seguono questa vostra tendenza di tenere aperto appunto più a lungo nelle stagioni invernali e poi vedremo anche quello estivo, oppure perché si sa, un turista basciare però chiaramente deve andare a mangiare, ha bisogno di qualche cosa e quindi quando scende a Rabba ha potuto trovare qualche cosa di aperto oppure no. Ecco questo è un aspetto molto delicato. Quest'anno qualche albergo ha creduto nell'idea degli impianti di allungare la stagione e quindi ha tenuto aperto anche le varie attività in modo che chi vuole può trovare anche alloggio e da mangiare perché è fondamentale. Il problema, il rischio è appunto che gli impianti siano aperti, le piste aperte, i rifugi in quota più o meno aperti ma poi in paese si trovi tutto chiuso. Questo non è un bel biglietto da visita neanche per la località. Quindi bisogna lavorare un po' in questo senso e cercare di far sì che ci sia un intento comune da parte di impiantisti e albergatori per far sistema. C'è un progetto di Funivia Rabba che sta andando avanti positivamente per Rabba ma anche Roccapietro è appunto per coinvolgere tutta la comunità in questo senso, ci credete anche voi? Esattamente sì, credo che allungare la stagione sia anche un bel biglietto da visita, una mossa diciamo pubblicitaria per far vedere che ad Rabba si può sciare, a Rabba a Passo Pordoi si può sciare fino alla primavera inoltrata diciamo, fino dopo Pasqua come stanno facendo altre località con successo insomma. Veniamo alla stagione estiva Gianpaolo, si inizierà quindi a metà giugno è accennato? Inizieremo, apriremo, noi gestiamo un impianto nella gabinovia che dalla località Ponde Vauts siamo a metà diciamo tra Rabba e Passo Pordoi, porta in cima. La gabinovia è aperta per gli escursionisti e soprattutto per i cicloescursionisti, i famosi bikers che trovano poi i sentieri, le piste da discesa adatte alle loro caratteristiche. Sono dei percorsi che vengono curati dalle stesse società, facciamo parte di un circuito molto ampio e quest'anno siamo entrati anche nel circuito della Gravity Card che è un circuito europeo praticamente dove con un biglietto puoi girare tutta l'Europa su queste piste. Diciamo chiaramente siamo stati sottoposti a una valutazione da parte di una commissione che è venuta a vedere le piste, gli impianti, a vedere come lavoriamo e solo dopo il loro parere diciamo abbiamo avuto la possibilità di entrare in questo circuito. Ma siete solo voi come Pordoi e SPA che farete parte di questo circuito? E anche la Val di Fassa, anche il circuito della Val di Fassa e il Sella Ronda diciamo estivo. Il Sella Ronda quindi estivo è anticipato quello che stavo perché si può fare quindi anche con le biciclette, con l'ausilio degli impianti risalite. Esattamente funziona un po' come succede in inverno, cioè c'è una tessera giornaliera, plurigiornaliera che uno può acquistare e può percorrere, cioè può salire su tutti gli impianti e anche con le biciclette e fare il Sella Ronda sia in senso orario che in senso antiorario con la bicicletta appunto. Senti Giampallo, da qualche anno chiaramente la pedalata assistita ha aumentato il numero chiaramente di fruitori degli impianti risalita in percentuale, si può avere rispetto a quando non esisteva tale mezzo? Ci sono stati gli aumenti credo dei passaggi? Sì, allora il trend dei passaggi durante l'estate è in continuo aumento, leggero aumento, non ci sono delle impennate diciamo, non è esponenziale con l'aumento dei passaggi però è graduale, segno che l'interesse è sempre grande per la bicicletta e certo le biciclette con la pedalata assistita tante volte ti permettono di salire i passaggi volmente e non hai bisogno dell'impianto però questa cosa si compensa insomma non è un problema. Ecco a livello di sicurezza ok poi si va su con la pedalata assistita per scendere però servono delle capacità quindi dei sentieri o delle strade silvopastorali ad hoc perché anche questo dove si può andare, tu fai anche parte del soccorso alpino quindi per evitare gli incidenti andare sul sicuro avventurarsi nei sentieri oppure andare sulle strade? Esatto ci sono dei sentieri che sono dedicati esclusivamente agli escursionisti quindi è giusto che un escursionista che va a piedi non abbia diciamo l'intralcio della bicicletta perché potrebbe anche essere pericoloso per entrambi e invece ci sono delle piste dedicate proprio alle biciclette ci sono piste con diverse difficoltà con le curve paraboliche non sono piste facili alcune sono facili alcune sono impegnative cioè bisogna avere il mezzo adatto quindi ammortizzato e avere una certa capacità di conduzione e avere una certa capacità non possiamo improvvisare non leggo una bicicletta e vado giù. Giampaolo siamo quasi in conclusione e nuovi impianti avete se non sbaglio in programma un nuovo impianto di risalita giusto? Sì noi abbiamo in progetto come Pordoi Impianti Affune la sostituzione della seggiovia Lezuo che diciamo ha una certa età ormai e non ha una capacità di trasporto orario adeguato diciamo al Sella Ronda quindi vogliamo realizzare una cabinovia speriamo il prossimo anno stiamo facendo tutta la trafila diciamo burocratica stiamo attendendo le autorizzazioni per poi procedere e dare un servizio migliore perché l'obiettivo è un po' sempre quello di migliorare l'offerta sia estiva che invernale con nuovi impianti con l'adeguamento delle piste Obiettivo quindi prossima stagione invernale la 24-25 o quella successiva? Per quella successiva per il 25-26 speriamo bene Giampaolo è stato un grande piacere grazie per essere intervenuto un caro saluto a voi della Pordoi SPA Grazie a voi e grazie alla prossima E a voi tutti grazie per la gentile attenzione arrivederci alla settimana prossima Ciao Ciao Grazie.